Ferragosto all'insegno degli incendi in provincia di Palermo dove nella notte un rogo di grosse proporzioni è divampato a Trabbia alle porte del capologo siciliano in località contrada a Danigarci. Per causa ancora da accertare le fiamme si sono propagate in fretta fino a raggiungere le campagne e una zona boschiva tra Trabbia e la frazione di Santo Nofrio. In fumo, ettari di vegetazione, il fuoco all'ambito anche le abitazioni ma per fortuna non sono stati segnalati danni per tutta la notte fino al mattino interventi da parte dei vigili del fuoco che oltre a un massiccio utilizzo dei mezzi di terra hanno adoperato anche quelli aerei. Nel dettaglio un canadero è un elicottero del Corpo Nazionale per le complesse operazioni di spegnimento in una zona impervia e difficilmente raggiungibile. Acqua di uvari, pompieri, anche il Corpo Forestale e la protezione civile. Sessanta le persone evacuate e una decina di caprini morti avvolti dalle fiamme a causa del vasto incendio alimentato anche dal forte vento di Scirocco. Attimi di paura per le fiamme piuttosto alte che hanno l'ambito due abitazioni e minacciate altre quindici. Dal luna di notte fino alle 7.30 di questa mattina, carabinieri della locale stazione guidata dal comandante Roberto Chilla, vigili del fuoco, protezione civile forestale, coadiuvati all'alba due canadei erano poi domate le fiamme. Ma nella notte i soccorritori hanno dovuto sgomberare l'aria, vacuando 60 persone perché nelle abitazioni si trovavano bombole di gas che avrebbero innescato una serie di esplosioni al momento in cui le fiamme avessero avvolto le abitazioni. Molti animali salvati, una decina invece, non hanno avuto scampo.